Non solo gli albergatori con l'associazione denominata Isola Verde, Casa Micciola adesso decide di fare il sistema e mettersi in proprio fondando anche l'ASCA, associazione che raggruppa commercianti e artigiani della cittadina termale, un organismo associativo esclusivamente made in Casa Micciola, chiamato a tutelare gli interessi della categoria e a confrontarsi costantemente con l'amministrazione comunale in un momento in cui Casa Micciola è alle prese con un processo di rilancio sotto molteplici punti di vista. Per adesso sono 16 gli imprenditori e le rispettive attività che hanno formalizzato la loro adesione all'ASCA che ha nominato Salvino Napoleone, Ava e Tenaria Viaggi come presidente. Oltre a questi l'elenco comprende anche Barunico, Fischi Dischi, Aitalmoda, Ristorante Celluso, Bar Topless, Ristorante Corso, Bar Epomeo, Vagnitiello, Pizzeria Fratelli Celentano, Retro, Intersport, De Luise Charter, Arcamone, Pietro Quaffer, Profumeria Iacono, Soltech. Ma in queste ore altre sono le aziende che hanno deciso di sposare il progetto e iscriversi all'associazione, ragion per cui l'elenco dei componenti potrebbe davvero allargarsi a strettissimo giro. Nei prossimi giorni è previsto un primo incontro con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Casa Miciola.